Siamo con un altro grande vino di Terre del Prici, una grande cantina siciliana come abbiamo già detto prima. Questa volta parliamo di un vitigno internazionale, lo Chardonnay, che in Sicilia acquisisce sicuramente qualcosa di più importante proprio perché è sicuramente a questo punto il terreno e proprio tutto quello che è l'ambiente pedoclematico, pedoclematico che dà grandi sensazioni a questo vino. Vino come lo Chardonnay, dicevo che andiamo subito a vedere come si sviluppa sia il naso che poi il nord. Si rivela un vitigno importante, un vino importante, un vitigno che sicuramente dà degli ottimi risultati in Sicilia, come avevo già detto prima, lo assaggiamo. E' piacevole, avvolgente, delicato. Che altro dire? In altre calici.